La FOIA stesso ribadisce il criterio che la trasparenza è un mezzo per controllare la qualità dei servizi per favorire la partecipazione civica. In realtà è stato percepito e spesso interpretato quasi solo come un audit anticorruzione. Condivido nel senso che quello che penso è che forse veniamo da anni in cui si fa riferimento soltanto al valore dell'anticorruzione come valore massimo ed esclusivo. Io credo che la corruzione debba essere combattuta sia con le leggi, sia con le sanzioni, sia con la trasparenza della pubblica amministrazione, ma deve essere una trasparenza che poi consente veramente la tracciabilità, che poi consente veramente di vedere quello che si fa. Oggi ho chiesto di aprire un tavolo per migliorare questo FOIA e quindi sarà sicuramente un mio impegno perché non mi piacciono le cose che restano sulla carta. Ciao!